Per la campagna di vaccinazione antinfluenzale per la stagione 2019-2020, la regione toscana ha acquistato attraverso l'Estar, l'ente di supporto tecnico-amministrativo regionale, 870.000 dosi di vaccino, l'11,8% in più rispetto allo scorso anno per 4.900.000 euro di costo. L'assessore Stefania Saccardi ha raccomandato a tutti il vaccino, in particolare ai soggetti più fragili e alle persone dai 65 anni in su. I 65 anni anche quest'anno riceveranno gratuitamente la vaccinazione antipneumococcica, anti-herpes e zoster e riceveranno dal medico le indicazioni sull'eventuale assunzione di vitamina D3. Ci si vaccina dal medico di famiglia o negli ambulatori della ASL. È facile perché si va dal proprio medico di medicina generale e senza nessun problema ci possiamo vaccinare ed è una protezione importante soprattutto per le persone anziane e per le persone con fragilità. Nella stagione 2018-2019 sono stati 42 i casi gravi di influenza segnalati e 13 sono stati i decessi. Nella stagione precedente i casi gravi erano stati 63 e i decessi 15. L'obiettivo minimo di copertura vaccinale è il 75% della popolazione e la Toscana negli ultimi anni ha sempre raggiunto una copertura superiore alla media nazionale. Abbiamo già avuto casi di influenza documentati in Italia, non nella regione toscana, quindi l'influenza è già arrivata. Ovviamente il picco ce lo aspettiamo sempre intorno a gennaio, gennaio-febbraio, ma questo dovremo vederlo, non lo possiamo sapere, ci vorrebbe una sfera di cristallo, ma il virus di quest'anno penso che sia più o meno similare a quello dell'anno scorso. Anche nel 2019-2020 i donatori di sangue mantengono il diritto alla vaccinazione antinfluenzale gratuita e la vaccinazione è raccomandata anche agli operatori sanitari.